Buonasera dalla serie Alfa Sport, il recupero del girone d'andata, Maccabi contro quelli che abbiamo qui migliore in campo, abbiamo Barbera F, che ti chiami? Barbera Francesco, migliore in campo anche se è uno dei giocatori che si lamenta di più, non l'avremo premiato, però oggi tocca perché con tre gol è un'ottima prestazione, sei arrivato anche un pochettino in ritardo, però com'è andata la partita? Lo so, è andata bene, certo l'arbitro non ci ha favoriti, molti errori arbitrali, falli di continuo, niente, una partita brutta sotto di tutto questo di vista, perché... Provinata dall'arbitro? Praticamente sì. Quindi meritavate di perdere perché avete vinto? No, no, meritavamo di vincere, però troppe ferate, non si potrà giocare così. Facciamo magari qualche complimento anche ai tuoi compagni di squadra, che comunque sono sempre compatti, siete una squadra organizzata e non mollate mai, quindi... No, io a differenza di Lofaro, faccio ovviamente a Lofaro che ha fatto una gran partita e è un gran bel giocatore. Gran bel giocatore ad aspetto fisico? No, 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 è un gran bel giocatore, gioca bene, non merito di giocare in queste categorie. Ah, quindi classe superiore addirittura. Sì, sì. Può sembrare una grande partita per il MacCup. Sì, ma avevamo la partita sotto controllo. Comunque alla fine abbiamo iniziato a vincere. Ok, ti ringraziamo e sei stato gentilissimo. La Serie Alfa Sport è tutto, grazie. 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 Grazie.